Qual è l'impegno di Banco BPM sul fronte ISG? L'impegno di Banco BPM sul fronte ISG è partito già da diversi anni. Il Banco BPM nasce dalla fusione di due banche popolari che quindi avevano già molta sensibilità su alcune tematiche, su clienti, le dipendenti, i dipendenti, i territori su quali operavano. Il Consiglio d'Amministrazione ha integrato le proprie competenze in materia strategica, ha integrato le strategie ISG nell'ambito delle più ampie strategie aziendali, ha delegato poi alcune delle sue attività nell'ambito proprio del gruppo a un comitato che è ad hoc, che è il Comitato Controllo di Rischio e Sostenibilità, che ha compito sostanzialmente di analizzare ex ante e di supervisionare le tematiche che riguardano ISG a livello di gruppo e nell'ambito di questo comitato è anche stato nominato un consigliere referente in termini ISG che evidentemente in maniera molto proattiva interagisce con le strutture. Poi a livello manageriale è stato istituito un comitato, un comitato manageriale che è presieduto dall'amministratore delegato proprio per dare l'idea di quanto sia importante per noi il fattore ISG e l'integrazione del fattore ISG nell'ambito dei processi operativi dell'azienda. È un comitato che vede coinvolti tutti i manager di prima linea, se operativi che di staff. Questo proprio a dimostrazione, avendo anche nominato una responsabile ISG di gruppo, a dimostrazione proprio della volontà del gruppo di portare avanti quei piani d'azione che sono stati pensati all'inizio di quest'anno e che poi sono stati ripresi nell'ambito del nostro piano industriale. Grazie per la visione!